Si chiama Jennifer W, o meglio W, è una donna di 27 anni d'età, deportata a Turchia alla Germania nel 2016, sarebbe stata arrestata a giugno con l'accusa di omicidio, avrebbe fatto fuori una ragazza dopo averla usata nella condizione di schiava. Costei sarebbe un membro femminile dell'Isis in Germania, affermata perché insieme al suo marito avrebbe ridotto un'altra donna in schiavitù in territorio iracheno. Secondo quello che ci fa sapere l'indipendente, sembra che la donna fosse membro della cosiddetta polizia vorale, che vi ricordo sono squadre che si vanno ad occupare di controllare il rispetto delle regole nel bestiario e dei codici di abbigliamento per le affiliati dell'Isis. Il cariffato islamico. La ragazza in questione sarebbe stata lasciata a morire disidratata senza acqua dal marito di lei, dopo che sarebbe stata ridotta in schiavitù e avrebbe bagnato il suo letto. Vi ringrazio per l'ascolto, questo sarebbe quanto, un saluto caro e al prossimo video da Narratore Italiano.